Il ritorno di Gilda Platano a Uomini e Donne, questa volta come tronista, continua a regalare emozioni, solo per cuori forti L'ultimo colpo di scena è legato al suo ex, Alessandro Vicinanzi, la cui relazione è terminata non molto tempo fa e senza troppe spiegazioni Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Cugnaloni, anche il Campano ha fatto il suo rientro in studio ed è tornato a sedere tra il parterma stile del trono over, laddove tutto è iniziato Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Cugnaloni, anche il Campano ha fatto il suo rientro in studio ed è tornato a sedere tra il parterma stile del trono over, laddove tutto è iniziato Si tratterebbe di un ritorno totalmente inospettato Non solo, dopo questo scontro infuocato, Alessandro ha chiesto di ballare con Roberta Di Padua, grande rivale di Ida Platano Una provocazione? Forse Ora il pubblico è curioso di sapere come evolverà questo ritorno in studio da parte del giovane imprenditore Campano Vuole realmente mettersi in gioco o è questo un modo per creare tensione nel percorso da tronista? Sì 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 Sì